amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi pronostici del weekend settimana scorsa sono andati bene perché delle otto partite che ho che avevo pronosticato due non si sono giocate quindi sono diventate sei e delle sei non indovinate cinque sbagliato intanto salutiamo willy che ogni tanto si fa vedere in telecamera ciao willy stavo dicendo delle sei partite pronosticate ne sono state indovinate cinque quindi tutto sommato tutto sommato bene questa settimana ripropongo altre partite vediamo con quante ci indovineremo con quante sbaglieremo e quante forse verranno rimandate comunque oggi quando faccio questo pronostico è giovedì ho tenuto conto degli indisponibili attuali sapete che adesso col col covid in corso gli indisponibili potrebbero crescere o diminuire quindi prima di andare a giocare le partite che vi sto pronosticando oggi andate sempre a fare un ricontrollino il giorno stesso di tutti gli indisponibili e gli infortunati comunque partiamo con la prima partita che nizza nante quindi siamo in francia e nizza è secondo con 36 punti 32 gol fatti 17 subiti ovviamente secondo ed è dietro al paris saint germain che è inarrivabile perché mi pare che ne abbia già 47 un più 11 nante nono 29 punti 25 gol fatti 23 subiti il nante dovrà fare a meno di cinque giocatori quindi proprio per questo vi dicevo convocati però per la coppa d'africa quindi qui il covid non c'entra niente ci sono di questi cinque giocatori solo un paio veramente sono i titolari che sono castelletto e ciprienne quindi sarà molto difficile per il nizio ottenere una vittoria io cerco di stare più sul multi gol 1 3 casa che è quotato a 1 e 30 sera se i rang royal union quindi qua andiamo in belgio l'union è la prima in classifica e gioca contro l'ultima quindi proprio il più classico dei test a coda tra l'altro il sei rang perde da sei partite di fila mentre l'union non perde da sei partite consecutive 47 punti per la prima per la prima in classifica con 50 gol fatti e 20 subiti 19 punti per l'ultima con 23 gol fatti e 42 subiti qua io dico 2 quota 2 quota 1 e 40 secondo me è tra l'altro anche molto interessante per essere una prima contro l'ultima quindi andrei sul sicuro con questa quota di 1 e 40 scegliendo la vittoria degli ospiti intanto potete vedere quanto fa freddo a milano andiamo in francia torniamo in francia dove c'è tolosa pau la prima contro l'ottava il tolosa doveva giocare in settimana ma a causa del maltempo ha riposato quindi la partita è stata rinviata avrà più energie per affrontare per affrontare questa partita di sicuro non è una partita molto facile ci sono 10 punti di differenza tra le due squadre 37 punti per il tolosa con 40 gol fatti 18 subiti quindi una squadra molto molto forte 27 punti per il pau con 23 gol fatti e 23 subiti io qua dico 1 perché la quota è molto interessante di 1 e 80 può essere rischiosa se volete mettete un multi gol 1 3 però 1 e 80 per una prima in classifica è tanta roba quindi direi di andare a provarlo attenzione voglio aprire una parentesi ho creato il mio gruppo interista bet privé accessibile solamente per chi si registra gratuitamente al book top bet 24 ovviamente potete vedere i risultati che sto ottenendo sul gruppo qualche vittoria si ottiene sempre siamo in positivo quindi chi di voi volesse entrare nel gruppo privé basterà cliccare sul link che trovate in descrizione e seguire tutta la procedura quindi poi decidete voi chiusa la parentesi passiamo alla prossima partita che è bilefield contro furt quindi siamo in germania è un'occasione colossale per il bilefield che è penultimo in classifica con 17 punti ma gioca contro il furt che è l'ultima ultimissimo direi perché se non mi sbaglio non ha nemmeno 10 punti il furt tra l'altro il bilefield arriva da una serie di due vittorie e un pareggio quindi anche abbastanza in forma e anche qui proverei un rischioso 1 che è quotato 1 85 se volete anche qui copritevi col multigol 1 3 casa però nella mia schedina credo che sceglierò 1 quota 1 85 andiamo in grecia dove c'è la ec seconda in classifica che gioca contro il panettolicos panettolicos 33 punti per like 29 gol fatti 16 subiti potrà approfittare della stanchezza degli ospiti che hanno già giocato contro il pauc salonico ieri perdendo per 2 a 0 quindi qua direi 1 quota 1 e 30 andiamo in inghilterra dove c'è liverpool brandford stasera il liverpool dovrà giocare contro l'arsenal quindi insomma magari un po di stanchezza potrebbe accusarla se non mi sbaglio anche il brandford ha giocato l'altro ieri col southampton quindi ci sarà stanchezza da entrambe le parti il liverpool ha qualche giocatore convocato per la coppa d'africa come ad esempio mané come ad esempio salah però una rosa abbastanza ampia per poter far fronte a queste mancanze quindi qua dico 1 quota 1 e 30 chiudiamo con l'ultima partita andiamo in portogallo dove si giocherà belenenses porto allora i portoghesi sono in questo momento primi in classifica hanno staccato lo sporting lisbona di tre punti sono primi a 47 lo sporting dietro a 44 e poi c'è il benfica che se non mi sbaglio è a 40 un pochino un pochino più lontano il belenenses è una squadra che va così così insomma diciamo che il campionato portoghese è un po squilibrato dopo porto benfica e sporting tutto il resto si c'è un po il braga che ogni tanto impensierisce queste tre ma non è in grado di vincere il campionato però è una squadra che si sa difendere il resto poi sono tutte squadre di veramente di un altro livello di di scarso livello quindi qui il porto potrà vincere la sua partita io scelgo il 2 quota 1 e 20 ma potete abbinarlo anche a un 2 più over 1 e mezzo quindi arrivare a una quota magari totale di 1 e 50 va bene ragazzi abbiamo finito le partite sono 7 il mio consiglio è quello sempre di fare delle schedine da massimo tre partite combinatele un pochino se vi piacciono escludete quelle che non vi piacciono ma fate consiglio che vi do io schedine da massimo tre partite quindi potete giocare anche in singola se ce n'è una che vi piace particolarmente due partite cercate di stare comunque su una quota totale di due rispettate sempre quelle che sono le vostre possibilità economiche quindi se potete giocare 5 euro 10 euro 20 euro questo lo sapete voi ma giocate dei soldi che non vi disturba perderli sempre disturba perderli ma diciamo che non vi disturbano eccessivamente ecco mettiamola così quindi ragazzi io ho finito questi sono i consigli importante iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace come vi ho detto prima se volete accedere al gruppo privé basterà cliccare sul link in descrizione e seguire tutta la procedura il vostro interista bet vi saluta mi raccomando restate sintonizzati perché domani arrivano i pronostici della serie a un saluto a tutti e un bacione ciao ciao